Ciao, sono Carlo Masa e sono il proprietario, fondatore e gestore della World Cup. Ho sempre fatto il bartender, mi sono sempre occupato di bar e locali e ormai da dieci anni mi occupo di questa realtà di formazione in Sardegna. Ho contattato Max più o meno a novembre, abbiamo cercato una data che potesse andare bene a tutte e due, per gli impegni eccetera. È stato molto gentile nel fornire materiale o comunque documenti per poter coinvolgere anche i possibili nostri corsisti. Ha fatto gli interventi mirati sia sul bar ma anche su altre tipologie di locali o di attività che riguardano la ristorazione, quindi anche ristoranti, pizzerie, pub, eccetera. Max è un grandissimo professionista nel settore bar e dell'ospitalità e quindi è uscito a coinvolgere tutti i ragazzi, anche quelli un pochino più timidi diciamo nel partecipare attivamente alla lezione. Non è la classica lezione frontale dovevano parlare e tutti gli altri ascoltano zitti in silenzio ma è stato uno scambio continuo in tutta la giornata di formazione. Consiglio a tutti coloro che in qualche modo operano nel mondo della ristorazione e dell'ospitalità di seguire questo corso e consiglio anche ai miei colleghi proprietari e gestori di attività di formazione come la World Cup di ospitare Max perché realmente è un punto di vista importante da trasmettere a tutti i ragazzi che seguiranno il corso.